Buongiorno a tutti, oggi finalmente non piove e sono in pieno campo nel mio terreno e raccolgo questa piantina per farne insalata, faccio una sfiziosa insalata e poi siccome in tante mi avete chiesto dello spinaccio selvatico, eccolo qua è infestato il campo perché questa parte di terreno non ho ancora seminato e quindi vado a fare le cimette dello spinaccio, eccolo qui dopo farò una frittatina e vi farò vedere eccoci qua, siamo pronti per la frittata di spinaci selvatici ecco, metto prima due cipolle fresche tagliate a fettine aggiungiamo circa 20 grammi di pancetta giusto per dare sapore potete mettere anche il prosciutto cotto a questo punto che la cipolla è bella dorata aggiungo circa 200 grammi di spinaci selvatici le cimette a questo punto aggiustiamo di sale e pepe io il pepe non lo metto, voi fate come preferite allora, metto 3 uova in una bowl un pizzico di sale, se volete un pizzico di pepe e parmigiano a sentimento uniamo le uova dopo pochi minuti perché se non ci mette cuociono subito mischiamo abbassiamo la fiamma e mettiamo un coperchio io ho trovato questo quando la frittata è bella dorata la rigiriamo col coperchio e lo lasciamo cuocere altri due minuti ed è pronta però Grazie.